Il successo della trasmissione si regge su valutazioni non ideologiche di appartenenza partitica, ma su criteri oggettivi di qualità, credibilità, attendibilità e pluralismo pubblico. Il reporto nelle scorse stagioni ha realizzato il doppio, se non il tripo, di altre trasmissioni di approfondimento competitor. In tutte le puntate è risultata la terza trasmissione dell'intero Prime Time, la seconda RAI, con una media di circa 1 milione e 6,2 milioni e 8 in prima edizione del lunedì, alle quali vanno aggiunte, questo lo ricordo perché è un valore per l'azienda, 800 mila spettatori nella replica del sabato, che registra la conquista di un pubblico del 98% dei casi completamente nuovo. In questa stagione, dopo un primo mese di messa in onda, nonostante lo spostamento, abbiamo mantenuto una media del 7,4% la domenica sera, una media del 7% nelle repliche del sabato. Un successo che viene confermato, come dicevo, nelle repliche estive, nei rimontaggi noti anche come report cult, che registrano, seppur editate 5 o 6 volte, un gradimento di share nettamente superiore alla media. Il report è ai primi posti da 16 anni e negli ultimi anni si è confermato il programma televisione italiano per eccellenza per approfondimento. La qualità delle inchieste per i temi trattati, l'originità, la qualità delle riprese in montaggio e per la sua squadra di inviati, che hanno svolto in questi anni un lavoro straordinario, mettendo anche a repentaglio la propria sicurezza e quella dei propri familiari nel periodo della pandemia. Devo dire grazie a loro a tutte le eccellenze, le maestranze della RAI, che ci hanno consentito di andare in onda con una qualità altissima. Nel 2019 report nel monitoraggio sulla qualità percepita dei telespettatori ha incassato il voto di circa 8 attestandosi come il miglior programma di informazione della RAI. Nell'ottica del puro servizio pubblico. Spettatori tra i 20 e i 44 anni sono cresciuti nel 29% rispetto al 2017. Si tratta di una risorsa per il futuro della RAI. Un traguardo che è stato confermato nel 2020, incrementato nel secondo semestre del 2021, quando Reposte si è ancora confermato il primo programma televisivo italiano per l'approfondimento, per la qualità delle inchieste, per i temi trattati, per la qualità ancora una volta di riprese in montaggio, per la squadra di inviati.